Auguri signor Grazie 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 Il mitico gioia nella casa del Signore, dei giorni in cui Mirko, Emanuela, intendono formare la loro famiglia. In quest'ora di particolare grazia siamo loro vicini con l'affetto, con l'amicizia e la preghiera fratella. Ascoltiamo attentamente insieme con loro la parola che Dio oggi ci rivolge. In unione con la Santa Chiesa soffichiamo Dio Padre, per Cristo Signore nostro, perché benedica questi suoi figli che stanno per celebrare il loro matrimonio, vi accolga del suo amore e vi costituisca in unità. Facciamo la memoria del bandese nel quale siamo rinati a vita nuova. Diverti figli del figlio, riconosciamo un tradito del loro ricevuto, per rimanere fedele all'amore a cui siamo stati chiamati. Per questo diciamo insieme, noi ti dobbiamo e ti rendiamo grazia. Noi ti dobbiamo e ti rendiamo grazia.